Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il trigger e giorno numero 14 del calendario dell'avvento A-S-M-R Cosa avrò scelto secondo voi oggi come trigger? Vi dico solo che questo trigger mi piace tanto Quindi adesso indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? E io oggi per voi ho scelto di fare del tapping con questi bicchieri di plastica Quindi partiamo subito Alla prossima 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 Alla prossima